Cari fratelli e sorelle, ora concludiamo una grande conferenza. Siamo stati edificati e ispirati. Ci è stato insegnato ad apprezzare maggiormente questo meraviglioso Vangelo. La musica e i discorsi sono stati magnifici, tutti. Ora torniamo alle nostre case. Se guidiamo, siamo più prudenti. Non facciamo che una tragedia rovini da gioia provata. Tutti i discorsi di questa conferenza saranno pubblicati nei prossimi numeri dell'Insign della Leona. Vi incoraggiamo a leggere di nuovo i discorsi nelle serate familiari e a parlarne insieme come famiglia. Sono il risultato di molte preghiere e meditazione e sono degni della nostra attenta considerazione. La conferenza si aggiornerà fra sei mesi. Attendiamo con ansia di potervi rivedere il prossimo aprile. Io ho 97 anni e spero di poterne fare ancora altri. Possano le benedizioni del cielo restare su di voi. Questa è la mia preghiera umile. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Redentore e il Signore. Amen. Grazie a tutti.